Ben ritrovati, oggi nel nostro approfondimento parleremo dei tagli alla cultura ma anche delle nuove paure nei teatri italiani per l'allarme terrorismo. Il nostro ospite è il Presidente del Teatro Gesuardo Diavellino Luca Cipriano, esponente del Partito Democratico che naturalmente ringraziamo per la disponibilità. Presidente, partirei dalla spending review, come i tagli appunto stanno penalizzando il settore della cultura e qual è in particolare in Campania il contributo degli enti locali per le attività dei teatri, che cosa dice? Ma in effetti non c'è mai stato un vero investimento sulla cultura, da parte degli enti locali, da parte delle amministrazioni, da parte se vogliamo anche per alcuni diversi dal governo centrale e la situazione più territoriale in Campania vede il Comune Diavellino fare quello che può anche nella diciamo incertezza delle politiche di programmazione, delle politiche di bilancio, insomma il Comune vive una fase di grandissimo travaglio e di incertezza e questa si riverbera inevitabilmente su tutte le istituzioni fino anche sul teatro che insomma invece è un pezzo del Comune Diavellino che funziona e funziona anche bene. E la Regione Campania con l'amministrazione Caldoro devo dire ha rafforzato di gran lunga il napolicentrismo, cioè soldi sono arrivati ma solo sui grandi progetti della città di Napoli e sui grandi attrattori, Pompei, il Teatro San Carlo, insomma gli attrattori che sono già noti, molto poco si è fatto per il territorio. Con De Luca auspico ci possa essere una variazione di tendenza, un'inversione di tendenza, devo dire con grande onestà che questi primi mesi non hanno prodotto alcun cambiamento nei nostri riguardi. Ecco saremo a vedere naturalmente quello che accadrà. Presidente, ma intanto con la cultura si può davvero creare economia e come secondo lei? Ma con la cultura si crea economia e nel nostro piccolo il Carlo Gesualdo è un esempio concreto al di là di quello che nelle interviste possiamo dire o declamare negli incontri. La cultura è economia nella misura in cui intanto crea movimentazione di persone. Il Carlo Gesualdo è un teatro frequentato ogni anno da 80-90 mila presenze, non sono presenze solo della città di Avellino ma sono presenze che arrivano dall'Irpinia e sempre più da altri comuni della regione Campania, sono presenze, sono persone che conoscono la nostra città, che vengono ad Avellino, quindi parcheggiano, quindi mangiano in un ristorante, quindi frequentano i nostri luoghi, eventualmente fanno un giro di shopping nella nostra città, quindi sicuramente il movimento di persone che la cultura crea è un primo indotto. in queste ore assistiamo alla rinnovata esperienza di Lucida Artista di Salerno, dove è emblematico quello che racconto, migliaia e migliaia di persone che arrivano a Salerno attratte da un evento di natura spettacolare e culturale ma che poi finiscono per spendere e creare indotto nella città. Il teatro è poi un indotto perché intanto crea posti di lavoro, quindi ha formato delle professionalità che prima non c'erano, penso ai tecnici del palcoscenico, agli scenografi, ai costumisti, ai registi, al percorso con l'Accademia Nazionale di Danza che ha portato da Avellino i primi 15 laureati d'Italia in coreografia e in danza contemporanea, persone, ragazzi e ragazze che da tutta Italia sono venute a studiare ad Avellino e che troveranno poi eventualmente mercato nel mondo dello spettacolo in ambito italiano ed europeo. Quindi la cultura, alla luce di questi piccoli esempi che abbiamo fatto, ma se ne potrebbero fare ancora molti, è evidentemente un indotto, è evidentemente economia, ha una ricaduta sulla qualità della vita di una città ma anche una ricaduta concreta sui livelli occupazionali. Bisognerebbe investire molto ma molto di più anche ad Avellino dove su questo campo a mio avviso ci sono fatti negli anni molte, moltissimi, inutili chiacchiere e pochi, pochissimi fatti. Il Carlo Gesualdo è l'unica realtà culturale che da 14 anni vive, rimane in piedi, operativa con risultati concreti, mentre ancora si discute di come aprire o chiudere l'Eliseo, di cosa fare della dogana e tutto sembra morire attorno. Intanto che tipo di rapporti ha avviato anche con gli altri teatri della Campania? Spesso si parla di rivalità in qualche modo nella nostra regione, ma c'è la necessità invece di creare delle sinergie positive in questo senso? La sinergia è evidente che aiuta, aiuta ad ottenere risultati migliori, risultati di maggiore qualità. Noi abbiamo fatto una scelta strategica molto ben definita, che è quella di attuare una sinergia con le eccellenze che ci sono in Campania e a livello nazionale. Citavo prima l'Accademia Nazionale di Danza, che è l'unica università pubblica italiana, ripeto, l'unica università pubblica italiana che opera nel campo della formazione coreutica e che è stato nostro partner per il corso di laurea che in tre anni si è tenuto da Avellino e si è appena concluso. Abbiamo fatto sinergia con il Teatro San Carlo, il più antico teatro lirico d'Europa, un brand che ha una caratura internazionale, direi mondiale senza problemi, che ha portato per tre anni l'opera lirica ad Avellino. Allora, le gelosie e la concorrenza è giustificata, tra virgolette offriamo un prodotto a un pubblico che deve scegliere quale teatro frequentare, ma la concorrenza quando è di qualità, quando è di livello non può che fare bene. Io ritengo e chiudo che per Avellino l'unica cosa importante sia continuare a sposare partner di qualità. Le sinergie servono, aiutano, ma servono soltanto se sono molto alte, ci spingono a fare meglio e a guardare oltre. Ecco, il futuro dei teatri, sicuramente non sempre si può scommettere soltanto sui finanziamenti pubblici, chiaramente l'epoca dell'assistenzialismo ormai sta finendo. Qual è la vera sfida del futuro a questo punto, secondo lei? Bisogna scommettere sul coinvolgimento dei privati? La sfida è intanto costruita, secondo me, su due binari. Da una parte una vera, convinta presenza dell'ente pubblico nell'investimento in cultura, quindi non più la politica delle sagre, non più la politica del contributificio, non più la politica del dividere i pochi finanziamenti che ci sono, ma la politica invece di scelte strategiche in campo culturale. Quindi un intervento serio, mirato, degli enti pubblici, a partire dalla regione, passando per le province che hanno conservato le competenze culturali e quindi non possono esimersi dal dire e dal fare qualcosa in questo campo, finendo chiaramente ai comuni dove i comuni sono proprietari di enti o di attività culturali. Poi c'è necessità di smuovere il mondo del privato. Il mondo del privato che può, sotto forma di sponsorizzazioni, di donazioni, c'è questa grande innovazione legislativa, l'Art Bonus del governo Renzi, che consente comunque una detrazione importante del 65% dell'importo che viene eventualmente donato per attività di natura culturale, i privati devono in qualche modo capire che se sostengono la cultura non fanno beneficenza, ma hanno un ritorno molto forte in qualità di reputazione del proprio brand e della propria attività, ma hanno anche una grande funzione sociale che secondo me rientra nella missione di un imprenditore. Intanto oggi bisogna fare i conti anche con l'allarme terrorismo che rischia di condizionare proprio l'attività dei teatri. Secondo lei come bisogna reagire? Quello che succede è chiaramente terribile. Siamo bombardati dal punto di vista mediatico di immagini che hanno una potenza devastante, che possono inevitabilmente segnare l'immaginario collettivo degli adulti e immagino ancora di più dei bambini, quindi è difficile difendersi rispetto a questa minaccia che è una minaccia nuova, poco decodificabile, poco strutturata. Ritengo che sia un errore davanti alla paura chiudere tutto, serrare i teatri, chiudere gli stadi, fermare gli spettacoli all'aperto, evitare che le persone si possano incontrare. Lo so che può sembrare retorica, ma non lo è. Di fatto la paura si sconfigge avendo una vita normale e noi regolarmente porteremo avanti tutte le attività del Teatro Gesualdo così come programmate, lo faremo con probabilmente un minimo di attenzione in più per quello che c'è possibile alla sicurezza, ma non è la paura, certo che non è la soluzione al problema, non è chiudendo il Teatro di Avellino o i grandi teatri che sono magari chiaramente più nell'occhio del ciclone che si sconfigge il terrorismo. Per cui sì, si viene con maggiore angoscia anche in un luogo dove ci si dovrebbe divertire, però bisogna continuare a frequentare questi luoghi perché la migliore risposta è comunque ribadire una normalità che invece proprio chi fa del terrore la propria strategia vuole andare a minare. Lei ha aperto la stagione del Teatro Gesualdo proprio all'indomani della strage di Parigi, c'è stata qualche polemica, perché è stato giusto andare avanti? Ma no, non c'è stata nessuna polemica se non un caso isolato, ma ritengo ridicolo nelle forme di espressione e anche nei contenuti, chiaramente subito censurato dalla maggior parte delle persone e che ha trovato pochissima condivisione come ormai tante cose in questa nostra città. È stato giusto invece non far finta di niente, noi abbiamo messo in scena la traviata, la traviata di Giuseppe Verdi, è un'opera tra l'altro ambientata a Parigi e con il sovrintendente del San Carlo, quella sera ad Avellino, Rosanna Purchia, ci è sembrato unitamente al Teatro Pubblico Campano, anche quella sera presente ad Avellino, aprire con tutto il cast del teatro San Carlo, quindi con 200 artisti sul palcoscenico, con un minuto di silenzio, riportando i colori della bandiera francese sulla nostra facciata. Queste sono attività che non cambiano nulla di fatto, è evidente che non si sconfigge il terrorismo con un minuto di silenzio o con i colori della bandiera francese, però sono attività intanto che scuotono le coscienze, che danno un cazzotto nello stomaco, quella marsigliese intonata al Carlo Gesualdo secondo me vale molto di più di tante espressioni di facciata, quindi ritengo di aver fatto bene ad andare avanti in quella maniera. Ecco, il rapporto con la Regione Campania per quanto riguarda i teatri delle zone interne, lei ha detto che per ora non ci sono segnali di svolta, ma qual è l'attenzione che chiede il settore della cultura al nuovo governo regionale? Intanto chiede un po' più di velocità, lei considera che il Carlo Gesualdo ha finanziamenti della Regione Campania bloccati al 2012, siamo alla fine del 2015, quindi non è possibile per un'impresa culturale che programma e spende necessariamente soldi per poter fare le proprie attività, avere oltre tre anni di ritardo nei finanziamenti pochi che la Regione eroga per la nostra attività istituzionale. Quindi intanto serve velocità nel mettere in piedi le procedure e poi serve capire che chiaramente non c'è solo Napoli, ci sono tante eccellenze ad Avellino, a Caserto, a Benevento, a Salerno, anche nelle realtà più piccole, penso all'Irpini e anche al caso di Lacedonia, un piccolissimo comune che ha un teatro da 500 posti quasi sempre che registra il tutto esaurito. Quindi guardare con maggiore attenzione anche all'altra regione, all'altra Campania, selezionare perché troppe volte si sono distribuiti soldi a pioggia, a realtà, a progetti, ad amici degli amici senza qualità, invece serve una svolta in termini di meritocrazia. Su questo penso che De Luca, che ha una storia personale e amministrativa costruita sull'esaltazione del talento e del merito, possa fare bene. L'unico appello è che faccia presto, altrimenti le strutture rischiano di morire. Lei è esponente del Partito Democratico, quindi è giusto chiederle qualcosa anche sull'attualità politica, su questo rapporto difficile tra partito e governatore della Campania che poi ha portato il PD a costituire una nuova segreteria regionale che in qualche modo è stato detto mortifica i territori provinciali. Lei che idea si è fatto? Nella vicenda specifica che ha riguardato il Presidente De Luca, per quello che ho potuto leggere dai giornali, chiaramente non vedo particolari reati imputabili al Presidente. C'è sicuramente stata una vicenda di malcostume, un malcostume politico che purtroppo alberga ancora in maniera diffusa nelle nostre istituzioni, ma non credo che De Luca abbia realizzato atti tali da poter minare la sua integrità amministrativa. Il Partito Democratico è un partito che è un che discute, discute molto, a volte discute anche troppo, quindi è un partito in cui credo fermamente, è sicuramente oggi in Italia l'unico partito in una situazione geopolitica e amministrativa nel caso territoriale troppo frastagliata, che non ha più vere punti di riferimento, però è un partito che ha il dovere di stare a fianco al Governatore De Luca e non di mettergli lo sgambetto. Creare una crisi in regione credo danneggerebbe tutti il PD in primis, quindi è bene affiancare il Presidente De Luca, lasciare la giustizia fare il proprio corso, nella fiducia chiaramente totale, perché finché non si è condannati si è innocenti, questo principio va ribadito, quindi credo che il Presidente abbia, come ha detto anche Renzi, il dovere di governare, se ne è capace, e dimostrare con i fatti che è stata la scelta migliore. Intanto da Bellino c'è questa crisi al Comune Capoluogo che si intreccia anche con le vicende interne al partito, continua questa guerra per bande, come se ne esce? La vicenda del Comune di Avellino è francamente sconfortante, l'amministrazione di fatto è bloccata dall'atto del suo insediamento, il PD dimostra il lato peggiore di sé nella nostra città ed è di veramente difficile individuare una soluzione che sia una soluzione di qualità, se ne esce facendo secondo me un esame di coscienza, se questa è la migliore amministrazione per la città di Avellino, allora tutti debbono fare uno sforzo per poter tirare indietro le armi e trovare una sintesi che però si trasformi in operatività al di là dei proclami, se diversamente ci si rende conto che questa non è un'amministrazione in grado di poter governare, ma non per incapacità, ma perché le condizioni che si vanno sommando da più livelli hanno finito per minare questo percorso, trovo francamente sconfortante assistere ad uno stilicidio quotidiano che in teoria dovrebbe durare ancora due anni e mezzo, la naturale scadenza di questo mandato, per cui ad Avellino è necessario riflettere, sono ore e giorni in cui servirà a riflettere e farlo con lucidità. Un'ultima cosa Presidente, il caso Napoli si parla di un ritorno probabile e possibile di Antonio Bassolino, si discute della ipotesi di ricorrere alle primarie, lei ritiene che questo strumento sia ancora valido? Le primarie sono un grande modello di democrazia importato dal modello americano in Italia che quindi in via teorica possono rappresentare una grande innovazione di partecipazione, io però non credo che le primarie applicate a tutti i livelli dalla scelta del sindaco, del piccolo comune fino alla scelta del Presidente del Consiglio sia la strada migliore, perché spesso le primarie finiscono per essere inquinate, finiscono per essere fonte di fibrillazioni continue, finiscono per essere guerra tra bande, finiscono per essere anche poco trasparenti. Il caso Napoli è un caso complesso, Napoli è una città difficile, il PD secondo me fa bene a giocare la sfida della vittoria, è un problema che deve riguardare il Presidente del Consiglio, Renzi non può non metterci la faccia su Napoli come sulle grandi città, Roma, Milano, Bologna dove si andrà a votare il prossimo anno, Bassolino mi sembra sia in campo di fatto, al di là dell'annuncio formale che manca, è stato a suo tempo credo un ottimo sindaco, un rinascimento napoletano lo si deve a Bassolino, Piazza del Plebiscito, la Metro dell'Arte, i monumenti ripuliti, il G20, insomma anni comunque significativi, non ho la sfera di cristallo, non credo che bisogna mettere veti a priori, quindi spero che il PD possa valutare con serenità sul Napoli la migliore soluzione possibile, spesso non è necessario il rinnovamento anagrafico per arrivare al risultato del rinnovamento amministrativo, quindi se Bassolino dovesse risultare il nome più forte per poter vincere le elezioni e intorno a Bassolino aprire una nuova stagione amministrativa nel segno della concretezza che Renzi mette nel fare le cose potrebbe anche essere il nome giusto, non mi incarterei insomma sull'anagrafe o sulle storie personali. Bene, grazie Presidente per questa intervista, naturalmente grazie a quanti ci hanno seguito, buon proseguimento con Otto Channel, arrivederci.